ma si fa con una persona una tecnica nasce questa idea di competenza sportiva quindi Aikido in reale più persone attacca quindi chiaramente devi fare più tecnica quindi maestro Dohei cominciato questa Tsukiwada è tecnica differente ma il problema è che in realtà in mondo reale questa scelta della tecnica dipende dalla situazione libera ma si dice libera allora è difficile praticare quindi per facilitare facili da praticare maestro Dohei fatto cacate dori sognanti quindi questa è solo scelta di facilità possiamo fare tante zucchiwaza differenti, non ha una sola tecnica, una sola zucchiwaza può fare tante variazioni, non è importante, che tutta questa zucchiwaza deve sviluppare vostra tecnica e vostra abilità di vivere in vita reale questo è il scopo della zucchiwaza, quindi anche questa bocca, c'è 20-30 tecnica ma è difficile mettere 20-30 tecnica in zucchiwaza, quindi bisogna scegliere allora come scegliere? questa chiama matematica c'è tante cose che bisogna analizzare matematicamente questo si fa questo e questo naturalmente sviluppa abilità per fare questo quindi questo mettiamo via fare questo tutte queste sono diciamo che è una matematica in parte cosa è essenziale, se noi sappiamo questo altra possiamo fare allora che quello che si chiama intenziale, si chiama intenziale, si chiama intenziale l'unico edizione in zucchiwaza che in Georgia che a fare tutte queste cose e tutti i sistemi scegliete quindi questo è il discorso quindi questo è un altro tecnico di testa dell'attività quindi questa cosa è una matematica Faccio così, lui arrivate qui, io faccio così, quanto faccio così, io hanno possibilità di contrarre attaccare, ma per praticare le medie, io contrarre attacco subito, questo è così, lui fa questo, subito di contrarre attacco, se capisce questo, io posso fare la questione. Questa è la反-mi, 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 la rapporto e le relazioni sono uguali. Allora, con tutti i passi, c'è questo materiale, veramente possibile fare così, poi anche così possibile, questa tecnica existente, ma non può mettere tutta tecnica, quindi faccio solo questa tecnica. Allora, quindi qui, primo cosi, lui è secondo, ora fa le seconde, questa matematica, questa no, ora se lì, se lì, non ho mai morto. Non è vero, non è vero. Non è vero. Lui, non è vero. Lui, non è vero. Lui, non è vero. Lui, non è vero. Contro, contro, attacca. Uno, due, tre. Ok? Uno, due, tre. Ora parto. Quando l'Uke va a contattare chiaramente l'Uke è basso colpo. Ora quando l'Uke è basso colpo Nage vive l'Uke ancora più basso fino a questa terra. Fino qui l'Uke può andare avanti. Ma se così, non può più andare avanti. Ok, parto. Ok? Questa Bokken per parto da questa Bokken deve praticare 20-30 anni al minimo. E perché 20-30 anni? Per capire il mondo reale. Perché il principiante che vede solo cosa si vede ora diventa come competizione sportiva. ma si impara la pratica Aikido in maniera corretta, capisce la tecnica Aikido di vita reale. Ora immagina vita reale a parte del dojo. E tutte queste sono educazione. Cosa c'è scuola? Non è vita reale. Quindi, ma serve andare scuola dopo possiamo applicare in vita reale. Ma scuola non è vita reale. Si fa errore in scuola magari l'insegnante, papà, papà o qualcosa ma si fa errore in vita reale perde il lavoro. Non è uguale. Quindi, sempre bisogna capire la differenza. allora, anche quando studia bisogna pensare ma cosa serve questo in vita reale? Questa cosa in cosa? Anche l'insegnante deve capire io insegno questa scuola ma cosa serve questo in vita reale? Dopo lui è diventato lui è andato via da scuola comincia a vita reale deve servire qualcosa. Infatti questa è una domanda di tutti gli insegnanti che ha certa intelligenza certa coscienza. E io insegno questa scuola ma cosa serve questo per sua vita? La vita del studente. Quindi, a qui do riguardo è tutto quello che deve servire in vita reale. E chiaramente in vita reale poca occasione che la gente attacca fisicamente, ma molto più che la gente attacca fisicamente. E allora bisogna capace di applicare questo anche attacca fisicamente. E poi soprattutto Aikido è una difesa ma creare. Bisogna creare la vita così nessun attacca. Questa è la mia domanda quando io ho pensato tecnica io ho avuto una domanda se mia moglie vuole uccidere mei che tecnica io devo fare? C'è solo due tecnica e divorciare oppure amare noi così mia moglie vuole che io vivo. E chiaramente se non divorciare bisogna creare questa giornata mia moglie vuole che io vivo perchè lei mi ama. E che lei mi ama io devo amare anche mia moglie. Un'altra cosa succede. Non armi e chiaramente chiedete patty e allora patty allo merito come scherzai ok 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 alappropriare ok 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 per essere un modo reali e questo è il mondo reale ma questa è il mondo reale è il paura ma ora cosa non si è paura ma è? ma quando non è il mondo reale è quando si è avanti? o ora è il perilo ora è il mondo reale è il mondo reale ma ora il mondo reale è il modo reale Ma in mondo diare c'è tanta pellicola, quindi bisogna sapere come proteggere se stessi, quindi quando è arrivato questo momento, il fritto è moroso, quindi come fare questo pellicola? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie